La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino straniero, 21enne, che deve scontare una pena di otto mesi di reclusione, inflittagli con sentenza di venuta definitiva. Gli agenti delle volanti del commissariato di Adrano, a seguito della segnalazione di una lite in famiglia pervenuta sul numero unico di emergenza, sono intervenuti nell'abitazione dell'uomo che stava litigando con la propria ex compagna per motivi legati all'affidamento del figlio di appena un anno nato dalla loro unione. Alla vista degli operatori di polizia, il 21enne si è però dato a precipitosa fuga, riuscendo a inoltrarsi nei campi, subito inseguito dagli agenti, dapprima a bordo dell'auto di servizio e successivamente a piedi. Dopo un lungo inseguimento, i poliziotti sono riusciti a bloccare il giovane fuggitivo. Effettuati gli opportuni accertamenti investigativi, è così emersa l'esistenza della condanna definitiva e di un provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica per i minori di Catania, ancora pendente. Il ragazzo, infatti, all'epoca in cui commise il fatto per il quale è stato condannato, era ancora minorenne. Avuta contezza di tale provvedimento giudiziario a carico della persona che avevano appena fermato, gli agenti hanno proceduto al suo arresto e al suo accompagnamento presso gli uffici del commissariato. Concluse le formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso l'Istituto Penale per i minorenni di Catania incontrata a Bicocca.